Mi trovo proprio sotto la pensilina Liberty nella città vecchia di Taranto, guardate uno scenario meraviglioso, la pensilina Liberty e il panorama che davvero è incantevole. Ma dinanzi a questa bellezza gli orrori, lo scempio, guardate ci sono scarichi su Pongo di Fogna qui da mesi, l'acqua è diventata stagnante, si è creato proprio il verde dello stagno, della palude, guardate qui, qui ci sono attività commerciali, qui c'è un albergo e qui c'è la merda, capito Sindaco Melucci? Qui c'è la merda, la vedete? La vedete? E l'amministrazione comunale non interviene per levare questo scempio, per togliere questo scempio? Non sono bastate tutte le segnalazioni che abbiamo fatto e ripetuto? Scusate, arrivano le navi da crociere, i croceristi scendono, vanno nell'albergo e cosa trovano al di sotto di esso questo scempio? Cosa pensano? Dicono ma siamo arrivati, siamo sbarcati in Italia, siamo sbarcati a Taranto o siamo arrivati in un paese del terzo mondo? Suppongo che pensano che sia stata sbagliata la rotta e siano andati a finire in una città del terzo mondo, guardate, qui non è un fatto episodico, fosse stato, vedete, una rottura, un guasto, un qualcosa di episodico, io lo comprenderei pure. Ma qui è una situazione, guardate, proprio lo schifo, la melma, che ristagna, ristagna, da mesi, da mesi, le mattonelle, i mattoni hanno cambiato colore, si sono intrisi di questa melma, hanno cambiato colore, qualcosa di pazzesco. Credo che sia fuoriuscita di scarichi fognari, poi la cosa brutta, terribile, guardate, è che questi scarichi poi vanno a colare, vanno a finire a mare e abbiamo questo contrasto tra una riva meravigliosa che la adori, la ami con gli occhi e questo scempio immondo dovuto a chi non sa amministrare Taranto e dovuto a chi, come l'amministrazione Melucci, non è in grado di far rispettare il territorio tarantino. E lo stesso, vedete qui, un altro tombino, lo vedete, un altro tombino da cui fuoriesce questa melma. Ma è mai possibile? Ora, al di là dell'ente di competenza, tua amministrazione comunale non ti rivolge a chi di dovere? Non cerchi di individuare le cause? Cosa fai? Lasci il territorio abbandonato a se stesso? Da mesi già c'è questo quadro, guardatelo qui, anni, mi correggono, anni, nessuno interviene. La città vecchia, quella città vecchia per la quale il vice sindaco Manzulli, con delega al marketing territoriale, allo sviluppo economico, al turismo, si vanta, si vanta, parla di questa attrattiva che suscita la città vecchia, parla di questo sentiment, ma la città vecchia è bellissima, ma la disgrazia siete voi amministratori, per come non sapete amministrare Taranto e per come avete ridotto Taranto. La vostra inerzia, le vostre omissioni producono questi effetti e non mi possono venire a dire no, ma magari la competenza è di quest'ente anziché di quest'altro. Tu intervieni, tu caro sindaco, sei la massima autorità sanitaria sul territorio e qui mancano le condizioni igienico-sanitarie, mancano le condizioni igienico-sanitarie. Qui dovrebbe intervenire il Dipartimento di Prevenzione della ASL, guardate, questo è un danno enorme che si fa alle attività commerciali, enorme. E voi mi parlate di rinascita e tu Meluccia hai il coraggio di dire il bello viene adesso, ma smettila di prendere per il culo i cittadini, smettila. Questa è la vera immagine di Taranto, ma non per la bellezza di Taranto, ma per il modo vergognoso in cui l'avete ridotta e la state amministrando. La distruzione di Taranto è questa e voi ne siete i responsabili. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS